Salve amici di Youtube, come state? Io tutto bene. L'ultima notizia del grande fratello VIP, Denis Dosio è stato squalificato per aver detto una bestemmia durante la notte. E allora il grande fratello ha comunicato a Denis Dosio che l'hanno squalificato per questa bestemmia, poi lui ha detto non fate lo stesso sbaglio che ho commesso io, diceva Denis Dosio e gli altri, c'erano Patrizia del Blanche che la consolava e gli dicevano questo giovane ragazzo così bravo, perché lo dovete squalificare? Perché Alfonso di Nini ha detto il comunicato che ha detto una bestemmia. E quindi diciamo che la squalifica c'è perché si sente tutto nella casa del grande fratello, come è successo a Fausto Reali nei confronti di Enoch, è successo pure a Denis Dosio con la bestemmia mentre dormiva. Poi una partita Juventus-Naboli è stata sospesa perché l'ASL di Naboli non va a partire la squadra a Torino e la Juve potrebbe vincere per 3-0 a Tavolino. Ma vi rendete conto? Ma non è colpa dell'ASL di Torino, come ho sentito in un video di un amico mio che ha detto è colpa di De Laurentiis che non vuole farli partire a Torino i giocatori del Napoli. Ce ne avrei solo due positivi dei giocatori, tutto il resto della squadra era negativo, si potrebbe giocare la partita. La Lega lo diceva e la Lega dice che se il Napoli non si presenta in campo la Juve vince a Tavolino 3-0 e raggiunge Inter-Sassuolo in classifica seconda. E' così, la legge del calcio è questa ragazzi. Adesso ci sta la sosta per le nazionali, giocherà l'Italia, prima è un amichevole con la Moldavia, mi pare, sì, poi gioca in trasferta con la Polonia e poi in casa contro l'Olanda. Cerchiamo di portare questi 6 punti per qualificarci alle semifinale o finale di National League a livello europeo. Va bene, il vostro Manolo vi saluta, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti dal vostro Manolo. Ciao a tutti, ciao.